Juventus Inter è qui, è arrivata, no dai, non è ancora qui ma è quasi qui, nel senso che arriva domani sera e abbiamo la prima conferenza stampa da analizzare all'interno del nuovo studio, quindi tanti mi piace a questo video che non possono assolutamente mancare, per la nuova location che sto cercando di mettere a posto ci sono stati un po' di problemini ma sicuramente arriveremo ad avere un bellissimo sfondo. Allegri dice, stiamo vivendo nel migliore dei modi questo momento, i nazionali sono rientrati nelle migliori condizioni e ci stiamo preparando per la partita di domani sera, per noi domani è molto importante come tappa in un percorso di crescita della squadra questa frase qui, scrivetevela, imprimetela nel cervello, mettetela da parte perché tornerà utile, tornerà fuori perché Allegri questa cosa qua se l'è studiata a tavolino e l'ha ripetuta, non una, non due, non due, mille, per mille questa è la linea comunicativa di Allegri, una tappa in un percorso di crescita della squadra domani sarà bella da giocare contro la prima della classe, anche questo scrivetelo perché tornerà utile più tardi contro i favoriti del campionato per loro stessa missione, quindi Allegri prende proprio il carico e lo butta sulla faccia di Sionenzaghi dicendo l'avete detto voi, lo scudetto è la vostra priorità e quindi ora sono tutti affaracci vostri io non ho sentito sinceramente questa dichiarazione perché sinceramente di quello che dicono gli alternatori mi importa poco, però Allegri usa questa linea di comunicazione non è che domani la partita va a decidere il campionato, per noi è molto importante in un percorso di crescita che la squadra sta facendo e di cui sono contento giochiamo contro la prima della classe, contro una squadra più forte e più pronta noi siamo in un percorso, è molto più semplice di come la vogliono far passare ho sentito dire tante cose, ma loro sono più pronti allora, vi voglio dire una cosa va benissimo questa linea di comunicazione anche perché per me l'Inter è comunque effettivamente più pronta della Juventus io su questo ho poco da dire, concordo con questa cosa però allora voglio capire perché negli anni in cui vinciamo noi ci sono allenatori che vincono, allenatori che non vincono negli anni in cui magari ci sono squadre più pronte più fatte in maniera costruita diversamente magari che sono quelle squadre che quando leggi la rosa e dici cavolo, magari lo possono perdere su loro sono squadre più pronte cioè questa è proprio una linea di comunicazione che non comprendo sono sincero, perché allora va presa in considerazione sempre l'ipotesi che ci siano squadre più pronte noi siamo stati pronti per tanto tempo però in questo caso poi viene meno il lavoro dell'allenatore perché sembra semplicemente che le squadre sono costruite in quel modo lì sono più pronte e quella è il deterrente quindi l'allenatore non serve a niente secondo me non è il messaggio giusto da far passare o almeno ci sta però lo facciamo passare sempre poi ripeto, questi sono classici giochini a livello comunicativo che fa gli allenatori e non stupisce per niente questa roba qua però è sicuramente curiosa una cosa che mi piace sottolineare perché quando tocca a noi siamo belli, bravi e buoni quando tocca agli altri sono più pronti e quindi noi che cosa ci stiamo a fare fermo restando che il campionato non è finito è vero che domani non è decisivo al 100% ma è importante se non importantissimo e quindi dovremo mettere tutto noi stessi in campo per cercare di non far conquistare tre punti all'Inter perché la sconfitta domani sera per me sarebbe una tragedia una tragedia Alessandro rientra Danilo probabilmente prima di Monza Locatelli si è allenato e domani valuterò se farlo partire dall'inizio o dalla panchina su Danilo ce l'aspettavamo su Alessandro pure, su Locatelli un grande sospiro di sollievo perché c'è un'emergenza centrocampo sebbene Allegri dopo dica no, problemi a centrocampo non ne abbiamo sì, secondo me ci sono perché Allegri dice abbiamo Nicolussi a cui hai fatto fare tre minuti quindi sicuramente non c'è la lettura di un giocatore che senti pronto abbiamo Cambiaso Ealing che possano fare le mezze ali sì, ma non è lì che vai a esaltare le loro caratteristiche Allegri dice cambiare sistema di gioco dopo 12 partite non mi sembra giusto questo ci può stare nel senso che se la squadra ha trovato una sua identità una sua organizzazione così ed è già un anno in realtà che la Juventus va avanti su questa strada potrebbe non essere così facile cambiare sistema di gioco in corsa così al volo bisogna ragionarci, bisogna star lì poi dice poi magari a partite in corso è diverso è quello magari su delle letture per dire l'ultima col Cagliari abbiamo visto che per andare a prendere Viola la Juventus si è messa a 4 perché sennò tra le linee ci sta facendo impazzire davanti stanno tutti bene e come al solito i titolari e subentrati dovranno fare buone prestazioni quindi non solo quelli che partano dal primo minuto ma anche quelli che poi subentrano saranno importantissimi necessari perché la partita dura 90 minuti e magari non 40-45 quelli che vanno a fare i titolari domani deciderò gli attaccanti Chiesa torna dalla Nazionale con buone partite ma le aveva fatte anche con la Juve domani tra Milik, Ken e Vlaovic seglierò il centro avanti allora qua apriamo una sorta di sondaggio di dibattito interno secondo voi chi sarà? perché io subito pensavo potesse essere Vlaovic però più passa il tempo e più penso a Milik sono sincero più passa il tempo e più penso a Milik fatemi sapere un po' la vostra qui sotto nei commenti perché poi tra poco inizieranno a girare le probabili formazioni quelle che Allegri sta iniziando ad avere effettivamente in testa dopo perdi anche un po' la magia nel voler indovinare e fare una prediction Allegri dice è una questione di un percorso che stiamo facendo loro hanno dichiarato lo scudetto come obiettivo numero uno il nostro obiettivo principale è tornare a giocare la Champions domani affronteremo la prima della classe per noi domani è un buon test cioè qua proprio avete presente giocare a poker una faccia da poker non voler far trasparire niente nessun tipo di sensazione nessun tipo di emozione poker face anzi quasi specchio riflesso e rimando tutto all'ammittente è l'Inter che deve vincere sono loro che dicono che devono vincere noi abbiamo altri obiettivi loro sono più pronti noi no è stata parecchiata un po' come Davide contro Golia e secondo me da un certo punto di vista lo è effettivamente poi è una partita di calcio di un campionato dentro la quale può per quanto mi riguarda succedere di tutto secondo me la Juve non è la favorita no io temo che la Juve possa non vincere e addirittura perdere però il pareggio mi sembra quasi scritto in sta parte da qua non so se anche secondo voi è una roba del genere però vi dico anche che anche l'anno scorso non mi aspettavo di perdere contro il Napoli e mi ha presi 5 quindi questa roba non vale niente le mie sensazioni sono sceme proprio non descrivono la realtà anzi tutt'altro quindi fatemi sapere un po' quello che ne pensate voi che sicuramente siete più attendibili del sottoscritto poi Allegri va a stemperare un po' la tensione e la pressione con una battuta e dice chi è il nostro sinner? perché gioca a tennis chiesa? se è bravo a giocare a tennis come giocare a calcio vabbè io ripeto che paragonare dei giocatori di uno sport individuale come il tennis e dei giocatori di uno sport di squadra come il calcio è la cosa più boh distante in assoluto cioè come fai a paragonare un atleta di uno sport individuale con un atleta di uno sport singolo di squadra cioè non esiste non esiste però vogliamo fare questi paragoni solo per inserire magari fare un po' di si vabbè d'accordo facciamolo stiamo al gioco che cosa vi devo dire? uno tra che Milik e Vlaovic giocherà ma la partita è lunga e fisica per noi sarà importante chi verrà in panchina e sarà un ottimo test veramente Allegri proprio nella più totale tranquillità poker face della madonna si è messo gli occhiali non dice niente le solite 3-4 frasi fatte sarà una partita lunga chi gioca dall'inizio che viene in panchina per non percorso loro sono i favoriti è la prima della classe cioè queste questi tre concetti godono della proprietà commutativa li metti un po' qui un po' lì e alla fine viene fuori la conferenza stampa e Juventus Inter il derby d'Italia i ragazzi sono pronti per giocare come sono pronti per giocare tutte le altre partite perché domani non si decide il campionato ma su questo sono d'accordo che domani non sia la partita decisiva per il campionato sono d'accordo anche se se la Juve perde poi diventa molto complicata perché recuperare 5 punti a questa Inter qua mi sembra una vera propria impresa sappiamo che giochiamo contro una squadra molto forte le grandi sfide si vincano nei dettagli si nelle partite equilibrate però domani saremo in grado di rendere una partita equilibrata sono curioso molto curioso perché noi abbiamo utilizzato un approccio prettamente difensivo nelle ultime gare e ha funzionato contro squadre di un certo livello ora vedremo se funzionerà anche con l'Inter che ha tutto un altro livello invece rispetto ad alcune squadre che abbiamo affrontato nel recente passato Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro la squadra sta facendo bene anche l'anno scorso sono arrivati in finale Champions League sono primi in campionato e hanno passato il girone in Champions in 12 partite in vantaggio credo che sia stata raggiunta soltanto due volte dice Allegri vado a memoria io non lo so non ho idea non ho fatto uno studio così dettagliato sull'Inter per fortuna la Juventus ha dei match analyst che lavorano attentamente anche sulle altre squadre finalmente si gioca dopo 10-12 giorni di chiacchiere sottoscrivo questa frase finalmente lo stadio sarà pieno non si decide il campionato sarà una tappa importante ma non finisce la stagione è vero c'è questa fortuna qua quest'anno la Juve non avrà se non in Coppa Italia gare da dentro o fuori nel vero senso della parola da eliminazione però è ovvio che una sfida diretta in questo momento del campionato in questo momento di classifica il tasso di importanza non è elevato di più è tanto che non giocavamo una partita che vale il primo posto ma non cambia niente a noi lo chiamavano Pinocchio ricordatevelo dobbiamo desiderare la vittoria come con Cagliari o contro le altre sì ma non è proprio la stessa cosa serve una partita come abbiamo fatto fino ad ora no serve di più serve decisamente di più oltre quello che abbiamo fatto fino ad ora dovremmo una squadra coesa che conosce proprio i limiti di trasformare in punti di forza anche questo è un grande classico di questa stagione magari dopo 10 minuti cambia la partita l'importante è affrontare i momenti della gara attenzione se andiamo sotto diventa una partita brutta che noi non sappiamo gestire quindi spero che non si vada in quella di restire lì Miretti ha giocato davanti la difesa le prime partite alla Juventus vediamo domani mattina come sarà Locatelli uno davanti alla difesa giocherà vediamo chi mettiamo e qui in questa frase Allegri è un ghigno malefico proprio sembrava lo stregatto e io non so che cosa abbia in mente ho veramente paura temo in realtà che che sia la lettura di Rabiot perché gli dicono una domanda Rabiot c'ha già giocato quindi secondo me nel caso sarà Rabiot però quel sorriso mefistofelico che ha fatto mi ha fatto un po' preoccupare ho detto Dio chissà chi ha in mente di mettere davanti la difesa non ne ho idea ho una paura fottuta Marotta ha detto che sono un grande comunicatore complimento battuta no non lo so sta facendo un grande lavoro all'Inter posso solo fare complimenti e sta facendo di buono quanto aveva già fatto anche la Juventus con un altro allenatore quindi lui non ho capito anche lui è un buon comunicatore poi gli dicono Vlaovic ha segnato praticamente la metà di Lautaro da quando è alla Juve Allegri dice difficilmente riesco a spiegare il calcio quello si gioca Vlaovic ha iniziato bene con 4 gol importanti da qui alla fine tornerà a far bene perché è un calciatore di valore Allegri di pompiere prende proprio una bacinella e lancia l'acqua sul fuoco per stemperare tutte le tematiche non dà risposte non ha voglia di darle abbiamo un gruppo solido e coeso che fa la prestazione poi nel calcio possono succedere tante cose noi saremo pronti per giocare una partita bella e importante per il calcio italiano speriamo che possa essere bella e importante per la Juventus più che per il calcio italiano sono sincero Corsa Scudetto non solo Inter e Juve loro sono favoriti della classifica Milano e Napoli invece sono quelle che lotteranno per lo Scudetto noi dobbiamo guardare la distanza dalla quinta e avere il desiderio di vincere certe partite ora alla vigilia di una partita che se vinci vai primo sinceramente non ho la voglia di guardare la distanza dalla quinta sarò il più onesto possibile guardare la quinta e la distanza dalla quinta oggi alla vigilia di questa partita è l'ultima delle cose che voglio fare in assoluto e che sicuramente non farò sicuramente non farò quello che conta è domani tra due o tre mesi quello che succederà nessuno lo sa perché il calcio è variabile e ci sono gli imprevisti è pieno di imprevisti per non perdere certezze servono prestazioni solide i ragazzi sono straordinari e faranno bene anche domani posso dire che apprezzo però il fatto che Allegri torni a parlare dei ragazzi perché l'anno scorso in più occasioni mi sono lamentato di questa comunicazione che andava tutto in altra direzione e cioè vabbè ma mi mancano dei giocatori quindi che cosa facciamo se si parla bene del gruppo il gruppo poi risponde e secondo me questa è una delle cose che ha cambiato l'anno scorso la comunicazione anche dell'allenatore il come si pone l'allenatore nei confronti dei suoi tesserati poi il campo è un'altra roba però nel senso che non ci sono state le grandi differenze l'abbiamo già analizzato però la linea comunicativa per me è importantissima ha maggior ragione per un allenatore come Allegri in cui ha veramente bisogno che i giocatori si buttino nel fuoco per salvarlo per seguirlo quindi da questo punto di vista mi fa molto molto piacere però ci sono stati tanti concetti che vi ho buttato qua vi ho letto le frasi della conferenza e ho alimentato con dei miei pensieri ora tocca a voi perché comunque stiamo parlando di una partita tosta una partita importante una partita da tripla in cui secondo me la Juve non è la favorita per pronostico anche se si gioca in casa ne abbiamo già parlato e straparlato nel video anche con Kino Lello Davo come fra ma dei nuovi concetti sono emersi delle nuove indiscrezioni anche del livello di formazione ci sono dei ballottaggi ci sono dei dubbi andate a scioglierli nei commenti ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti